Allora quest'anno ritorno a Saluseppe naturalmente perché quattro esimizzazioni, quindi sono tanti anni di esperienza sul verde, sulla natura, su tutte queste cose che riguardano la nostra bellezza, la nostra salute fisica e mentale, per cui quest'anno il sottotitolo sarà colori, sapori e amori, naturalmente i colori della natura, i colori di quello che sarà il cibo, i colori di questo verde meraviglioso di Saluseppe, fino ad arrivare ai sapori perché naturalmente con le erbe faremo dei piatti molto buoni e all'amore che sarà la parte centrale del nostro saluseppe. Amore perché è rappresentato questo libro di Rodolfo Francesconi che si chiama appunto in attesa del risultato dedicato alle erbe afrodisiache, per cui ci saranno, in questo libro ci sono 136 ricette fatte con erbe afrodisiache per lui e per lei e quindi sarà una cosa curiosa, ma bella nello stesso tempo è comunque con una ricerca storica importante, quindi è curioso ma nello stesso tempo è anche un libro importante. Chiaramente ci sono i due convegni con i colori della salute, con le erbe e i fiori, ci saranno spettacoli in giro nel paese, il loggiato sarà trasformato un po' in questo salotto San Decese dove le persone possono prendersi una cosa, che ne so, una cosa da mangiare e godersi tranquillamente c'è un po' in questo salotto San Decese dove ci sarà anche tutto il mercatino, le erbe officinali e tutte queste cose qua, sala biblioteca anche lì, massaggi, vari tubi di massaggi, bellezza corporea.